ok ragazzi siamo al punto di prima vediamo un po quello che possiamo fare non so quello che devo fare non posso giù così sto giusto c'è un buco c'è un po se non posso non si vediamo se 4 proviamo qualcosa si quello che cercavamo ok questo è quello che aveva usato suo fratello vabbè l'ho usato suo fratello all'uomo non ci sto vabbè 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 ok ho fatto bello il mare vabbè vabbè bene vi ande un mondo compito non è qua si sta un calino tanti vero male che c'era il caso easy no? easy bello ok vediamo un po' non non oh c'è aperto ok saliamo il piano di su questo posto ti amo ok io non ci avrei mai pensato sta roba ok diciamoci la verità mi diverto da matti mi diverto da matti di secondo me è un distante semplice ok oh ok ok bisogna andare qua dovrebbe essere ok c'è 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 ciò non hai di fice di fice ok è già quasi capisce 2x x2 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 e che se questo vogliono mamma mia dopo forti per il nuovo dopo forti ma il pezzo bambini il conciano ancora niente dodo o già proprio no 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 ok meno male che ti sei salvato amico ok polizia ma ancora una cosa aspetta non muore giusto sembrava più basso non mi potete dire niente riga mi sa che muoio troppe volte non è giusto giusto ok con i da anni un gioco piet sto con missione compiuto trovate ma se li dice niente non ti credo penso che li sto guardando nelle tasche va bene così va bene sapevo 100 100% sapevo che li diceva la sigarettina e via non resta che cercare ma non ricominciare ti prego hai detto anche tu noi l'abbiamo fatto tu e e adesso con i di merda voli un esempio da quanto ci proviamo eh? proviamo qualche vista non è vero ok? neanche una che ti piace a me senza e senza Vargas non saremo in giro riguardo a Vargas c'è un problema che tipo di problema? ti ho fatto entrare nella prigione si si l'ho fatto eh? dove c'è il problema dove c'è il problema? e cosa ha scoperto? shhh mi vuole una fetta merda se qualcun altro scopre questa storia non si stiamo tutto io con Vargas tranquilla pure ci sono cose più importanti a pre-pensare d'accordo cerchiamo un posto un po' più appartato si ok ok magari gli episodi durano mezz'ora ok ok allora ok 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 10 minuti c'è più di quindici perché 10 minuti dovevano tutte quelle che faccio che se lo fa cadere che se lo fa cadere legno con il tassi di oro e argente ben fatto dentro il calo perché l'uomo di Everest dovrebbe perdere tempo a nascondere un banale crocefisso non è un crocefisso non è un crocefisso tecnicamente un crocefisso rappresenta Gesù questo non è Gesù non è vero non è vero ma anche la corona di spina delegato al croce ma se non è Gesù allora legge la descrizione come non è Gesù come non è Gesù è santissimo sì un ladro pentito ma non vedo il nesso ragazzi facciamo finta che io non sia mai stato a cataclismo ok durante la crocefessione Gesù venne messo tra i due ok il primo preso in giro Gesù il secondo questo qui lui si pentiva e accettò il suo vestito se non è Gesù quando si è in pratica un ladro pentito sì che c'è? hai capito? esiste una cattedrale di Sambusa in Scozia ottimo prestamento di eva in Scozia non può essere una coincidenza no sapete avevo dei dubbi su cerchiamo Vargas dobbiamo andarci no ma perché sono mai oh porca puzza ahia questo è morto questo è morto no 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 poi non è mai uguale a quello oh fratelli oh 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 ma sono tutti uguali sono tutti per la che oh oh Noi, stavo già spaccato di botte prima, non posso fare anche adesso Ma questo qua, cosa stava accendendo il nostro amico? Oh no, anche, oh, l'ha fatto la stessa cosa, primo No, 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 no Ahia, che male No, c'è Non ci sto capendo niente No, 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 no Dai, ci hanno rubato anche quello Dai, c'è di tre contro uno, ammazzato Non ci stavano facendo, sì Lo faccio io Vado adesso Andiamo Oh, non ho trovato niente Sarà in un'altra torre Qua? Ehi, ho un'educazione cattolica E ho sempre Non arrivi Ehi, ehi, se Non vale nulla Ti sembra un idiota? Ok, puoi rinegoziare? Bene, smettila di fare il teppista, troglodi Metti via la pistola Grazie Siamo disposti a darti il 10% Il 5 è guai Il grosso del lavoro è nostro Vedi E non lo troverai senza di me Ben vincito Alla parla Venti cilio Mi sembra ecco Me ne farò un altro Sì, certo 300 milioni di euro Cos'è? E se dovessimo rincontrarci Mi sa che è morto Mi sa che è morto Mi sa che è morto Oh, scappa Scappa Aiuto Aiuto Scappa La finestra Ehi, cosa ti hai aiuto? Ci stanno ammazzando Aiuto 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 Moriremo Aiuto 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 Sì, quello è giavante Neanche ci avviso Cosa Cosa Aiuto 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 si vabbè ma stiamo evadendo eh non è che chi sto picchiando io l'aria è più forte di me l'aria mamma mia ma puoi spingere la sola è così pesante emozionante sto gioco a mia no 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 dai non è così alto non è morto si qui andiamo con lui o no no Non rica mi stanno venendo i brividi Faccio una botta Non rica non è finita Non so se si può saltare Saltiamo anche perchè Non ce ne frega niente 15 anni dopo Sto qua Lasciate Un bordello di mi piace Io vi saluto Ragazzi è stato bellissimo Ciao Ciao Ciao